Ciao, sono Aisha. Da che classe vieni? Sono della Queen Time. Quest'anno hai partecipato al progetto del cinema, quali sono gli aspetti che ti hanno colpito di più e le esperienze più significative che hai vissuto? Certamente l'esperienza più significativa è stato il viaggio a Roma che mi ha arricchito molto dal punto di vista culturale poiché abbiamo visitato Cinecittà e anche l'Asia, l'agenzia spaziale italiana. E poi l'aspetto positivo in generale è che ho imparato molto ad utilizzare una fotocamera nel miglior modo possibile e registrare, diciamo, delle inquadrature che prima magari non sapevo. Il cinema può rappresentare in un futuro un tuo percorso da scegliere oppure è semplicemente un piacere? Per me il cinema, diciamo, è un piacere. Infatti questa esperienza è stata molto positiva poiché mi ha arricchito molto e ho approfondito delle conoscenze che magari non sarei riuscita a fare altrimenti. Cosa ti aspetterai dai corti di stasera che avete realizzato insieme ai tuoi compagni? Sicuramente saranno uno migliore dell'altro, quindi sarà bene, grazie mille.